Sì, lo vinciamo noi il derby, ma quanto è bello vincere un derby così all'ultimo, quanto è bello, ma no raga, no raga, no raga, no, allora, abbiamo vinto questo derby, io sono stracontenta, scusatemi però, non riesco a controllarmi, ovviamente, ovviamente, giusto così, sono stracontenta, la partita la stavo vedendo, non nera, perché comunque tutto sommato abbiamo giocato meglio noi, eh, abbiamo creato molto di più, partendo già dal primo tempo, l'Inter ha avuto più occasioni, quattro, o anche, sì, se non erro quattro occasioni anche nel primo tempo, tra l'altro il Milan si è visto molto poco, devo dire la verità, nel primo tempo quasi per niente, infatti eravamo arrivati alla fine del primo tempo, avevamo noi tipo quattro calci d'angolo già battuti, loro zero, quindi questo per dirvi anche che non hanno fatto veramente quasi nulla, in generale ha giocato meglio l'Inter, l'Inter, abbiamo creato molto di più, loro un pochettino spenti, eh, tutto sommato questa vittoria è meritata, è meritata da parte nostra, sono stracontenta, ma poi quanto è bello vincere così, quanto è bello vincere così alla fine, lo zampino di Vesino, anche questa volta, perché ha fatto veramente un cross spettacolare, anzi di più per i Cardi, che la prende di te, se la mette in rete, sì, ci prendiamo questi tre punti a casa, vinciamo il derby, sì, ammala sempre, forza Inter, raga, raga, forza Inter, sempre, no, bellissimo, allora, io ad un certo punto mi stavo sempre addormentando, nel senso che sì, la partita, per quanto mi riguarda, l'ha giocata tutto sommato meglio l'Inter, il Milan senza ombra di dubbio ha avuto anche le occasioni e tutto quanto, ma l'Inter ha pressato molto di più, è stata molto, molto, molto più aggressiva, allora, dell'Inter mi sono piaciuti Brozovic e Politano, Politano veramente un ragazzo che mi sta stupendo sempre di più, perché lo vedi ovunque in campo, lo vedi ovunque, poi comunque, vabbè, Icardi, l'autore del gol, oggi tra l'altro Iguain, dall'altra parte si è visto veramente poco, eh, prima della partita parlavano di questo, Icardi, Iguaini, Iguaini, Icardi, ma devo dire che Iguaini oggi non ha fatto proprio chissà cosa, ecco, quasi niente, poi, poi, punti negativi, l'infortunio di Nainggolan, ragazzi, Nainggolan si è infortunato, noi mercoledì abbiamo uno sfidone contro il Barcellona, Borja Valero, perché è entrato Borja Valero al posto di Nainggolan, ecco, non lo vedo molto, ma anche Keita, eh, Keita, boh, secondo me quel ragazzo lì potrebbe, ma forse, non lo so, deve ancora emergere, questo non ve lo so dire, però il punto dolente è l'infortunio di Nainggolan, distorsione alla caviglia, se non erro, se non ho sentito male, quindi sicuro che non recupera, sicuro, e quindi dovremo fare a meno di Nainggolan uno dei migliori che abbiamo in squadra, e poi, tra l'altro, mi ha preoccupato anche un pochetto l'uscita di Perisic, nel secondo tempo, Perisic che ha accusato, se non erro un malore, non un malore, un dolore alla coscia, non lo so esattamente, però anche lui è uscito dal campo zoppicando, e, pensando a questa settimana, che ci aspetta una sfida molto, molto importante con il Barcellona, non è una cosa molto, ecco, promettente, diciamo così, poi tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, fatemelo dire, centrali, De Vrij, Skriniar, ma Skriniar, quanto è forte, ma quanto è forte Skriniar, hanno fatto un partitone, la difesa anche stasera, Samoa ha sbagliato qualcosina, eh, però, parlando degli esterni, però, per quanto riguarda Versalico, Versalico ha fatto anche una bella partita, adesso mi sono appunto ricordata, però i centrali, Skriniar proprio, quando si mette, lui anche con la fisicità, non ci passa nessuno, non ci passa nessuno, e forza Inter, e amala sempre, abbiamo vinto sto derby, e basta, e basta, lo meritavamo, abbiamo vinto, ci portiamo i tre punti a casa, amala, fatemi sapere cosa ne pensate voi, fatemi sapere tutto quello che volete, sotto nei commenti, io sono stracontenta, domani sarà un lunedì bellissimo per tutti quanti noi, per tutto quanto il popolo nero azzurro, sicuramente ci vedremo con il post, sì, con il post, con il video del giorno dopo, e forza Inter, non smetterò mai di dirlo, amala, amala, sempre, io la amo con tutto il mio cuore, e non dobbiamo mai arrenderci, mai mollare, ci aspetterò una sfida molto, molto importante, però, spero che almeno riescano ad onorare i colori, perché sarà difficile ragazzi, davvero, lasciate ogni speranza, però, io ci credo in questa squadra, io ci credo, nel calcio mai dire mai, e oggi la vittoria, per quanto mi riguarda, è meritata, sapete che sono sportiva, e quindi, l'avrei ammesso, se fosse stato il contrario, per quanto mi riguarda, la vittoria dell'Inter è meritata, e sono contentissima, fatemi sapere tutto quello che volete, io vi do appuntamento, alla prossima, amala, amala, sempre!